Salve a tutti ragazzi, sono sempre io a mezzo e benvenuti in questo nuovissimo video di Caterale Carriera Natale con il nostro Pordenone Come state? Spero bene, guardate che situazione in classifica ragazzi e oggi partiamo con il Napoli Anche perché in realtà avremo ancora qualche giorno di calcio a mercato, in realtà pochissimi e quindi dopo il Napoli bisogna muoversi Un'altra cosa che voglio fare è cercare di rinnovare ai miei giocatori Cercando di abbassargli il contratto, così proviamo a guadagnare qualcosina Beh, ci proviamo Il rinnovo in fretta, tilmo, quello l'ho fatto l'altro giorno Ecco per esempio, Shinya io, andiamo col rinnovino Se te lo abbassassi, forse sto esagerando Non lo so ragazzi, non so di quanto in realtà io possa Però in tempo di Covid ci sta Ok, adesso ragazzi direi che ci dobbiamo andare a giocare questa partita contro il Napoli Importantissima ragazzi, importantissima Stergio lo tengo, metto Camporese Qui a centrocampo direi che è arrivato il momento da titolare per Calodio E' super in forma e quindi lo mettiamo in campo Buttic ce lo portiamo dietro Facciamo così eh, Shinya io mi raccomando bello carico a subentrare Signore andiamo in campo sempre sul pezzo e forza ovviamente Pordenone, partita super fondamentale Come sarà quest'oggi, questo episodio? Perché il penultimo è stato un disastro L'ultimo è stato pazzesco Non so cosa aspettarmi per questo Ma che follo, direttore, ma si vergogni Ma no, ma come ha fatto a passare? E' fallo, è fallo, mi ha calciato Direttore, non solo da una parte per favore, questi falli eh Aieie, bellissima, per Dio Tuttuno ha il controllo, prova ad andarsene a quelli bellissimi, va Dio Ti prego, tira Quanto godo! Quanto godo! Pavon! Pavon! Napoli totalmente, totalmente in confusione in questi primi minuti In vantaggio dopo neanche dieci minuti il Pordenone con Pavon Cosa aveva fatto Dio? Se ne era andato benissimo Alla difesa Poi non è riuscito a tirare, ma poi ce l'hanno passata clamorosamente Mamma mia, che uscita di Stergio, ragazzi Non posso stare senza Stergio Attenzione all'inserimento di Pavon Caspiterina Secondo me è fallo però, eh Perché non ha sfiorato il pallone E è andato direttamente su Pavon Però, il primo tempo finisce qui, signori La cosa importante era Restare in vantaggio Come potete vedere, non ci sono state altre azioni Ci stiamo pionendo bene difensivamente Ma non riusciamo più ad essere pericolosi Nonostante comunque stiamo giocando meglio Teniamo meglio il pallone rispetto al Napoli Facciamola girare bene Calozzi, oh caro Sembravi Gagliardini, sembravi Ok È presa Salta, ti prego Attenzione Allo Zano Che non ha sfiorato il pallone Frimpong, grande chiusura, ragazzi Frimpong, grande chiusura Bella Bella Vabbè ragazzi Oh ma che sono diventati Tutti delle scivolatori Laureati in scivolate In scivolate Oh qualcuno Perché vi disposti Oh ragazzi Non mi fate incazzare perché divento una bestia Divento una bestia Spacco tutto Spacco tutto Facciamo i seri Mancano pochissimi minuti Occhio a questa verticalizzazione Milik Eh sì A Zelensky Domani Che bella questa gestione di palla ragazzi Però siamo cresciuti tantissimo Siamo cresciuti Tanti Sì Ma cosa fai Pavon Madonna uccidilo No Ma Me ne hanno fatti 18 di scivolati in quella maniera Come Bravo Bravo Sempre così 2-0 Dio Ma quanto devi inciampare godo lo stesso Vinciamo Grazie al gol di Pavon ragazzi Che sofferenza Che sofferenza Ma che vittoria importante Raga Poi come fate a dire che siamo gli sfavoriti Come fate a dire che siamo gli sfavoriti Che siamo già avanti al Napoli E li abbiamo pure battuti Ma siamo gli sfavoriti Va bene Va bene Atalanta vince Il Milan vince Quindi la situazione non cambia in classifica Restiamo qua Settimi Se gli altri non si fermano ragazzi È dura Però abbiamo 3 punti dalla Fiorentina Allora Ma si è fatto male Dio Ma perché Per molti giocatori Comunque il calo di stipendio è andato bene Per molti giocatori il calo di stipendio è andato bene E quindi E quindi vabbè Dio No Per quanto riguarda Brescianini Accettiamo Come meno 155 Ma gli ho proposto un calo di stipendio ragazzi Come meno 155 Aspettate un attimo Aspettate Oddio mio Ma se gli propongo un calo di stipendio Ragazzi abbiamo perso ufficialmente Penda Forse Non lo so Allora Diamogli rosso 3 anni Bonus Gol Alziamo il costo trasferimento Dai Tentiamola Poi però non ho i soldi là Non so cosa dire ragazzi Non so se è una cosa che si può fare o meno Ma mi sa che così abbiamo perso Openda Vediamo cosa ci dicono Solo che senza attaccanti Si fa dura eh Niente ragazzi Purtroppo Openda rifiuta E a questo punto vado a rinnovare i contratti Immaginavo Quindi accettiamo i termini Si vediamo un attimo Infatti non so perché Non l'ho ben capita questa cosa ragazzi Non l'ho ben capita sinceramente Perfetto Contratti rinnovati Almeno da quel punto di vista siamo a posto Noi avanziamo Niente Niente mercato Potremmo provare a prendere qualcuno in prestito Ma no è impossibile Perché non abbiamo Non abbiamo soldi Eh si Metterei budget Ti ingaggi La maggior parte delle cose Mentre bonus obiettivo stagione Trasferimenti Se no Se no non si riesce mai a fare calciomercato qua Bellino Bonucci Alla Alla Lazio Bellino veramente Avanziamo ragazzi Abbiamo il Verona Per il resto Io Camporese ragazzi Mi trovo troppo bene con Camporese Ve lo posso dire Clamoroso Andiamo in campo Andiamo in campo sempre sul pezzo Forza Porderone ovviamente Ma cerchiamo di non sottovalutare il Verona Cioè Anzi Più che sottovalutare Noi dobbiamo pensare Che si siamo cresciuti Ma che ogni partita Qua su PES Dato che non sono ancora esperto Ogni partita è Complicatissima Non ci regalano niente La neve Ci vuole molto fare la neve così Invece che quella porcata Vorrei solo farvi vedere come Straminchietta Sta giocando il Verona Tutto chiuso dietro Manco fossimo Il Barcellona Butic Ti prego Dagliela bene Ah bella Devi tirare Oddio Boh Non ci credo Stavano per fare una frittata devastante Oddio mio Favilli Che sleppa Gha tirato Bravo Digre Dai Frimpongo Fa qualcosa di buono Per favore Frimpongo 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 Solo così Potevamo Sbloccarla Con Frimpongo Che si fa tutta La fascia Sulli sci 1-0 Frimpongo Fortissimo ragazzi Sia difensivamente Fa un po' di fatica Sulle palle alte Quando deve fare la diagonale Anche se prima Ne ha fatto una devastante E poi fortissimo Anche in fase offensiva Qui batte Pandur Godo Gran cavalcata Grande sciata Su una rossa E poi ottima finalizzazione Anche per lui Importantissimo Più che altro Figo Perché siamo riusciti A sbloccare una partita difficile Con un altro Tipo di azione Questa cosa qui Con Frimpongo Non la facciamo spesso Perché comunque Lì abbiamo Solitamente Til Cerchiamo lo scambio Con la prima punta Invece questa volta Quando gli è stato dato Lo spazio L'abbiamo sfruttato Potremmo anche farlo riandare Tipo così E invece va Aieie Oddio Va Aieie Ma Ma che caspita È successo Ero passato La palla è tornata All'indietro Mannaggia Comunque signori Siamo in vantaggio Questa è la cosa Più importante Non mi interessa di niente In queste partite Dobbiamo solo vincere Difficilissimo Perché noi Non possiamo sbagliare nulla Gli altri Non sbagliano niente Occhio qua Occhio qua E se devi uscire Esci di Gregorio Ma cosa si è fatto male Dai ragazzi Ma che gol è questo Che mi hanno appena fatto Ma stiamo scherzando Cioè ma stiamo scherzando Con il portiere Rimasto a terra Cioè ma stiamo scherzando Con l'attaccante lì Che gli dà addosso Ma che gol è questo Che abbiamo preso Con il numero 11 Chi è? Il numero 17 Che lo urta Il numero 11 Eh non fatecelo vedere Zio Po Ma che scandalo Ma che scandalo Ma che scandalo Ma stiamo veramente scherzando Cioè ma stiamo veramente scherzando Io una roba del genere Non l'avevo mai vista Da nessuna parte In nessun gioco calcistico Una vergogna È passato a Ieglie Non so come Ti prego Til No No Cavolo No Andiamo contro questo sistema Beffardo Contro questo Questo calcio Questo calcio Scommesse Questo calciopoli 2.0 Che non ci vuole In Champions Che scandalo ragazzi Ho fatto un bel gol Eh Ho fatto un bel gol Ma questo è uno scandalo C'è il sereno Questo è veramente uno scandalo C'è il sereno Cosa vi ho detto Quando la partita va così Si vede Nonostante il nostro gol Le cose non sono cambiate Ti prego Ti prego Shin Ti prego Finisce qua Perdiamo 2 a 1 Signori L'Atalanta ovviamente Che per Ovviamente l'Atalanta perde Ovviamente l'Atalanta perde Ragazzi Mi sa che è finita qua Mi sa che è finita qua Noi purtroppo Non ci possiamo Non ci potevamo Permettere di perdere punti E La Champions Sarà A dire poco impossibile E forse Anche l'Europa League E forse anche l'Europa League Ce la andiamo a giocare Ma non ci sto con la testa Purtroppo Ma non posso Interrompere qui l'episodio Stasconfitta è stata Qualcosa di scandaloso ragazzi Qualcosa di veramente scandaloso Oggi scendiamo Il titolare E ci andiamo così ragazzi Ma Andiamo in ca Sempre sul pezzo E forse ovviamente Pordenone Attenzione Attenzione Ti prego Ieie Ti prego Ieie Ma non per Dio Era per Pedro Gonçalves L'ho indicato di lasta Cacchio di palla Ma poi perché Noi Scusatemi eh Ma perché nella minimappa Noi abbiamo un colore Il colore bianco E loro il colore nero Sono più nero io di maglietta Che loro Ma io Io veramente Guarda che Oh Dagliela di là Mi confondo Mi confondo Dai Frimpong Mamma mia Bravissimo Bravissimo Frimpong Bravissimo Frimpong Qualcuno Ma qualcuno dietro Vabbè io tiro C'è nessuno Nessuno che va dietro Che devo fa Che devo fa Dai Cambia di là Tutto Gira Ok 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 Bellissima Tira Centrale Peccato Non ci credo L'avevo vista dentro Ragazzi Stavo per fare Un risultato Clamorosa Ma ho visto Che non succedeva nulla Non capisco neanche di quanto è uscita Guardate che azione abbiamo fatto Ti prego Aie E Santon Quello lì Io voglio piangere Fortuna che Strigger Larsen Si autodistrugge Come al solito Occio Marcature Al centro Occhio Cacca Mamma mia Fortuna che ha tirato male Rischio 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 Rischissimo Ragazzi Però ci sta Ci scopriamo molto Ci sta Ma stavamo andando Ma perca Ma vi pare Vi pare Dai ragazzi Forza Andiamo un po' su Avanziamo un pochetto Bellissima Sta palla per Till Till Ti prego Dio Fai un movimento È passato È passato È passato Siamo riusciti a trovare Il varco giusto Bravo Till Bravo Gustil E bravo Dio Se l'è messa sul destro E l'ha piazzata bene Vantaggio Meritatissimo E tra l'altro Pure bello Devo dire Pure bello Oppela Ha rischiato anche di sbagliarlo Però No Ti prego Tigre Oddio Che cosa ha fatto Oddio Che cosa ha fatto Ancora Tigre Ancora Tigre Ragazzi Quella è stata Fantastica Su De Ulufeu Frimpo Guarda che bello Daiee Sì Sì Bellissimo Gol Pavone Subito protagonista Appena entrato Al posto di Sciglia Tocca un pallone Ed è un assist Clamoroso Finalmente Torna il gol Anche Guardate che palla Ragazzi Esterno destro E poi di mancino Di prima intenzione Aiee Chiude il match Ma che rigore Ma che rigore Ma starai scherzando Ma certo che è venuto Fuori aria Se no non l'avrei fatto L'ho fatto apposta L'ho steccato Follemente Apposta Assolutamente Fuori aria Va bene Signori Dai Ce la portiamo a casa Questa è la cosa Più importante Questa è la cosa Più importante Assolutamente Meritata Vero che Di Gregorio Qualche partina L'ha fatta Però noi abbiamo tenuto Più il campo Abbiamo tenuto Più la palla Ci abbiamo provato Di più Vittoria super Super importante Con l'Inter Che perde 4 a 0 Con l'Ellas Verona L'Atalanta Che pareggia Sì Ragazzi Sì Il Milan vince La Roma vince La Fiorentina vince Quindi siamo ancora Tutti lì Però abbiamo preso Un punto all'Atalanta E abbiamo 4 dal Milan A pari punti Con la Fiorentina Cioè noi guardiamo l'Inter Ma scusatemi Ma l'Ellas Verona Che è terz Verona terz'ultima E ovviamente Invalicabile Noi concludiamo qui Questo episodio Perché mi devo fermare Perché se no Mando all'aria tutto Abbiamo Il Cagliari Nel prossimo episodio Doppia sfi Uuuuh 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 Damn bro Dai poi abbiamo Ma siamo verso la fine 1 2 3 4 5 6 6 partite ragazzi Si può ancora fare Si può ancora fare Poi abbiamo pure Lo Schalke In Europa League Signori Noi ci vediamo Nel prossimo video Lasciatemi un commento Un consiglio Fatemi sapere sotto Nei commenti Cosa ne pensate Noi ci vediamo alla prossima Salute Alla mezza Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti